Ah, ma lui non c'è qua. Siamo tornati indietro? No, non ho capito. Dove siamo tornati? Eh, Edo. Aspetta, dove siamo tornati? Ah! Dal coso delle braccia. Ok. C'è un punto in cui devo salire, ma non lo trovo. Sai che bisogna trovare sto punto, ma io non lo vedo. Io non lo vedo. Aspetta. Oddio, non mi ricordo. S'ho preso le batterie adesso. Ma mi ha trovato? Oh, paffanculo. Eh, levati dal cazzo. Sei davanti la porta? Sei davanti la porta! Eh, giusto. Ero rimasta al bug. Sì, ma non mi ricordo dove ero. Con le braccia, col petto e il cuore. Ciao, ciao. Esatto. Ciao. Ciao, simpatica. Ciao, hack. Ciao, seghino. Hai visto, seghino? Adesso sarà difficile perché non mi ricordo cosa ho fatto. Cosa non ho fatto? Quando l'ho fatto? Cosa devo fare? Dove devo andare? Non mi ricordo più niente. Ok, la batteria me l'ha presa qua. Quindi non devo riprendere la batteria. No, non ricaricarla! Ma santo il cazzo. La ricarica. Eh, succa. Dai, levati. Dai, levati. E niente, è morta di nuovo. Allora, io devo salire sopra. Ma non so dove devo salire sopra. Devo salire sopra, ma non so dove. Ciao, fantastic! Ieri dei congiuri, che bene. Ci siamo divertiti. Ah, io dove devo andare? Scusate, io non vedo la botola. Non vedo la botola! Aia! Aia, tua sorella! Aia! Non vedo dove devo... Aia! Niente. Morirò qua presso a lui. Morirò qua dietro di lui. Levati! Perché cazzo mi deve pedinare? Qua, eh. E non è qua, raga. Ma hai detto che devo salire sulla cosa? Ma io non trovo la cosa. E levati dai cazzi! Che due coglioni! Te e tu zia pure! Ma mai non c'è l'alert per i follow? Allora, Cloud, lo ho dovuto elevare perché erano troppi alert che si susseguivano uno dopo l'altro. Quindi era tutto un diddling, 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 diddling. Quindi ho levato gli alert dei follow e ho lasciato quelli dell'esempio e dei beat per ora. Perché erano troppi alert. Faccio giustamente tipo 200 follow a sera. Era un po' petulante e mi avrebbe rovinato tutto il gioco, quindi... Ciao, card! Ciao, Silvio. Grazie per il follow, comunque. Allora, può essere che devo salire qua sopra? Ciao, Olimpia! Buona sera! Da quando hai iniziato il gioco? Eh, da un po' lì. Da un po'. Dalle otto che abbiamo iniziato. Allora, onestamente... Non capisco se sto sbagliando io la strada, il che è probabile. Olimpia! 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 Fade me! Stai calmo! Maria, dove devo andare? Oh, c'è una batteria? Eh, tua sorella. Bella la batteria raccolta. Ma nel frattempo sono morta. Ciao, ciao, Anto. Ma allora, raga, come cazzo si gioca a questo gioco? Che non ho capito. No, no, dove devo andare? Ciao, amici. È il DLC, sì, Dark Soul. Non è un fantasma, io sarei. Non è un fantasma, è una persona. È una persona col seghino. È una persona col seghino. Mi vuole fare le ale coccole. Oh, buona sei. Dai, levati dai cazzi. Che due coglioni! Lassami! Dai, ti prego! Ciao, another! Dai! Lassami! Segare in pace! Non è di qua che devo andare. Ma siamo sicuri, raga? A me sembra che sia di qua. Siamo sicuri? Ti vuole tagliare il pane? Ma non credo che voglia tagliarmi il pane col seghino. Ma mi avete detto che è sopra, è sopra, è sopra. Ma io sopra ho un nubio. Maria, poi che odio questa grafica di merda! Non si vede un ceppolo! Nutella! Grazie mille per la sub! Benvenuti sia la comunità di come per il tuo primo mese in assoluto! In assoluto! Mi raccomando, prendi il tuo grosso uccello e fallo vibrare. Il pane, il pene! Ah, non il pane! Vabbè, se mi tagliava il pane era buono comunque. Guarda che è? Vai, sa! E che è un follow! È un mio follower! Lei è un mio follower! Che follower è discutibile, però! Sei al primo mese! È la prima volta! Non tu, Nutella! C'è una nuova Nutella in città! Grazie mille, Nutella! Ciao Ninja, Diego e Tony per il follow! Benvenuto, ragazzi! Benvenuti a tutti! Olli! Grazie per le tre sub regalate! Ma sei scema! Pazza! Fuori di testa! Non farle queste cose in questo canale! Thank you, Popa! Grazie mille per il supporto! A Cloud, Kebabbo e viva la Baldrack! L'hai fatto apposta a regalare la sub a viva la Baldrack? O ti è capitata totalmente a caso? Ciao Luca, Bruno! Ciao Curiosone! Come si fa a prendere nei sub viva la Baldrack? Vabbè! Andiamo avanti! Andiamo avanti! Che viva Sam! Ma dove sono finiti i pannonini di lusso? E... Rai! Tua sorella! Non si può spingere sta cosa? No, che cazzo! Raga, non so dove andare! Ma che senso ha? Ma io che ne so! Lo sa Olli! Olli, cosa combini? Si fanno ste cose! Ma può essere che devo salire di po' a sopra? A so! Che Outlast è? È l'uno il DLC! Va bene tutto raga! Ho capito! Il bro sa picchiare ma non aprire le porte! No, sa aprire le porte ma le apre con lentezza! Quindi! Ma no! È sempre lui! Non è che stanno a tutte le parti! È sempre lui il tizio che mi vuole uccidere! E quello è il problema! Allora, aspetta un attimo! Fermi! Fermi! Allora! We can do this! Io non so dove è la strada però! Ciao Giovanni! Sai come si dice? Guarda i calzini in finale! Si dice cazzo succhia! No, non è vero! Non è vero! Non è vero! Helmode salve! Che bella sensazione! Ciao Max! Di che cosa? Di morire per colpo di Useghino? Non è una bellissima! Feed me! Feed me! Feed me! Feed me! Feed me! Eh! Chiudo la porta! Feed me! Sembra Pingu cazzo! Ciao Pippa! Ragazzi non so dove andare me lo suggerite! Raga mi sono persa! Aiuto! Help me! 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 Mi sono persa! Ma quando mi ha preso Useghino? Non era quasi teletrasportato? Contro esempio le sono le sostanze? Già ci sono andate a sinistra-destra! Sono tutte collegate! Sono tutte collegate! Non è che dici c'è una porta che sia diversa dalle altre! Tutte collegate sono! Guarda tutte qua! Sono tutte le stesse! Tipo giro giro tondo! Stanza da letto! 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 Niente! Ciao Lenny! Grazie mille per i ride! Benvenuti a tutti quanti ragazzoli del signor Lenny! Thank you! Grazie mille! Ciao Ballerito! Ma salve! Ce la posso fare! Ragazzi un attimo mi sta ricorrendo Seghino! Eeeh! Pesce! Seghino devi levarti dai coglioni perché... Vatti a segare in bagni! Ci sono i bagni Seghino! Levati dal cazzo! Levati dal cazzetto mio! Oh mio cazzetto! Io sto cercando sto posto ma non lo vedo! Non lo vedo! Non lo vedo! Vedi per me scu... Per me io qua devo salire! E dite di no poi! Io devo salire qua secondo me! Eeeh! Rip salire sopra quella porta che non si apriva! Quella dove intuire dove esserci il fumo! Io non so dove sta... Cioè non non non... Onestamente non so! Palle Seghino però... Entro sul frigorifero! Vado sul frigo! No 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 no! Non ho capito dove devo andare! Non è questa la porta! Siete sicuri? No vabbè! No vabbè! So tre ore che salto male qua in questa porta! Perché salivo ai lati invece dovevo salire di fronte! Ciao Magic Luca! No vabbè raga! No dai! No vabbè dai! Sono rincoglionita! Ci sta! Ci sta! Sono rincoglionita! Sono rincoglionita! Ci sta! Bene! Me la collo! Me la collo! Potete insultarmi adesso! Adesso via l'insulting! Ciao Fantastic Bro! Mi avevi già salutato! Sei proprio rincoglionita! No ma non pensavo così tanto! Cioè pensavo... Pensavo quanto basta! Capito QB? E invece sono proprio rincoglionita! Sono tre ore che giro qua dentro! Mi fa andare dal tizio col gas! Ma Kenne ma io me l'aspettavo che era... Cioè... Che cazzo... E ora come torno indietro? Oddio lo so! Feed me! Feed me! Feed me! Feed me! Feed me! Feed me! Ciao Scarlett! Feed me! Feed me! Grazie mille Scarlett! Per il quarto mese metterò la telella che mi dico! Feed me! È un altro horror? No! È sempre lo stesso! Feed me! Ciao! Mala show! Siete sicuri che non c'è un modo per tornare indietro? Perché adesso io come torno indietro tipolo? Tipolo come torno indietro tipolo? Sto diventando un meme! Feed me! È bellissimo però! Ciao Eisenberg! Stai ditto figlio di puttana! Stai ditto figlio di puttana! Bella comp! Lo è già! Penso di... Oh! Porco! 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 Oh! Succhiami le palle! Oh! Che c'è un morto a terra! Oh mio Dio! Piano! Ciao Niki! No! Io non sono a Pingo! Però lui sembrava Pingo! Dovrei aver liberato il tizio che stava qua dentro! È morto? Oh! Mi dispiace! Mi sa che non ce l'ho... Che cos'era quel salvataggio orribile? Mi sa che non ce l'ho fatta in tempo a salvarlo! Mi dispiace! Però avrebbe voluto tantissimo! Avrei... Ah! Dico... No! Mi ero... Mi ero perso! Tu ho un attimo di defaianza! Scanta luce! Comunque la durata della telecamera è metà dell'originale, quindi è abbastanza corto! La telecamera è metà dell'originale, che vuol dire? Eh... Intendi del primo, di Outlast 1? Questo è il DLC! Però non so cosa intendi tu per... Per metà! C'era una vita supplicando... Sì, stava supplicando, ma non l'ho... Niente! Ciao, Bunny! È qui che ci si caga sotto? Credo! Ciao, Bunny! Ciao! Che cazzo era quella cosa? Non lo sapevo mai! Andiamo! Stavo bevendo e a me è venuto un infarto, ho inghiottito quasi la mia lingua, guarda! Madonna mia! Ciao, Seri! Ciao, ragazzi! Benvenuti a tutti quanti! Benvenutissimi in questo canale di persone con estremo disagio! Il disagio, se te vuoi, a scegliere quanto estremo disagio! Qua ci sono dei passi di sangue, quindi devo scendere! Ci sono altre trappole? Per caso? Che mi devo vedere il terreno in faccia in due secondi, Netti? Scendo? Segui il sangue! È un nuvio più! Un nuvio più! Ah, qua! Ok! Sangue! Sangue! Ok! Allora, qua è l'unico posto col sangue! Ok, io vado! Ah, bello! Il signore si è calato da qua! Allora mi calerò anche io da qua! Con questo suavente movimento sexy di calamento di... 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 di people's! Oh, che cazzo vuoi? Oh, che cazzo vuoi? Oh, che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi? Ah, non sai, secondo me! Va bene, allora fatti... Cazzo! Ma se lui stava scappando vuol dire che c'era qualcuno che mi sta per uccidere? Ah, of course! Papà, ti sei dimenticata di DVD? No, lo facciamo settimana con Dara, torno! Lanciamoci nel vuoto! Vabbè, non è vuoto! C'è nebbia! Sembra di stare a Milano! È inutile che i milanesi vengano qua nelle mie live a dissenti... Oh! Grande, bro! Fantastico, bro! Vai! Tiramelo! Vai! 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 Va... Vai! Oh! Vai! Non... Un attimo, deve trovare la forza! Abbiamo aspettato tre ore per questa cagata! Non ha fatto nemmeno calestro! Che carino, sta a giocare! Chi sono io per disturbarlo? Ciao, Manny! Oh, tua sorella! Col cazzo! Ciao, Nexird! Prison Block! Oh mio Dio, Santissimo! C'è un telefono che suona qua dentro! Batteria? Buona, mi può servire! Telefono, ovviamente, con la cornetta alzata, perché sì, nel senso... No, apri! Mi serviva aperta sta porta! Cazzo! Allora, vado, destra! Ma dosso gioco! Ciao, Lenny! Maria Bedd'amato, signore! Ti prego, non mi uccidere! Non è questo il mio tempo! Cazzo! Eh, mi fai entrare? Ciao, pillole! Ciao, Vulcano! Benvenuti! Eh! Eh! Sì! Non si vede niente, madonna mia! Senti, compare, ma non è che posso venire a giocare con te? Che qua non mi sembra che... No, no, no! Non mi sembra mica la strada giusta, questa! Ciao, Stella! Oh, devo andare di qua! Oh, 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 ho trovato... Oh, che cazzo vuole? Chi è quello che corre come un pazzo? Stai calmino, bro! Eh! Che bella posizione! Mm-mm! Ma secondo me, con tutte le... Ste cornette alzate, sono morti tutti quando erano al telefono! Sì, sono morti tutti mentre stavano parlando al telefono, mannaggia, allora! Allora, keep calm! E non ci sto capendo niente! Keep calm! E non ci sto capendo nulla, proprio! Zero totale! E sono tornato dove ero prima! E sono tornato dove ero prima! E non credo che sia questo il posto giusto! Oddio, forse è il posto giusto? Ciao, Giocolandia! Ciao, Silvia! È il posto giusto! Corro! I jumped! Oh, Cristo! È l'apite! Pi! È il posto giusto! Il posto giusto? E questo è il modo giusto! Io non credo! Io non... Non... Non vedo una sega! Io non sega! Io lanciare! Fidare del mio istinto! Andare avanti fidandosi del proprio istinto! Oscar, grazie mille per la sub! Benvenuto nella comunità dei copi per il tuo primissimo mese in assoluto! Spero che questa live e questa comunità possano piacerti! Ma il coso non è detto... Cioè, non è detto... Non è ovvio come cosa! Grazie, Oscar! Ciao, Sabrina! E non lo so, non si vedeva un cazzo! Bello! 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 Che cos'è? Qui qua? Qualcuno che è scappato dalla prigione! Il che non mi piace tantissimo! Sono tornata all'ora di Shiner! Mi ha... Ti è cresciuta la live? Sì! Ha voglia di ucciderlo! Aspetta, potresti aprirmi la porta prima? Oddio, sembra un troll! Sembra un troll! Sembra una persona poco raccomandata... Ma il culo di fuori! Ma che schifo! Ma c'è il culo di fuori! Che schifo! Aveva le chiappe grosse di fuori! Mi fa strano vedere le dita! Ehi! Minchia! La canzone però è aumentata di suono! La canzone è peggiorata man mano che andiamo avanti! Quindi mi sa che le... Paaai! Ciao, lady! Ciao, salve! Eh, questo è out la sedia LC, salve! Salve! Come... Come va? Come va la... La... La famiglia? Come... Come va? Come... 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 Come state? Tutto bene? Contenta? Che le cose vadano bene in famiglia? Se... La cosa... Questa ha perso le braccia mentre giocava? Sono molto contenta... Oh, santo cazzo! Era una testa quella! Ah... Ah, ma lei è il giocatore di... What's the fan? No, guardi! Io... Io ho venuto in pace! Io... Io volerei giocare con lei! Io... Ehi! Ma lei è figlio di troia! Ma che cazzo vuoi? Guarda che sono più brava io a giocare! Hai capito? Testa di banana! Sono più forte io a giocare a basket! Coglioni! Sembrava un sardo... No, era una testa! Mi ha tirato una testa! Una sesta! Una sesta di pop! No, mi ha tirato una testa! C'è una porta aperta dall'altro lato! Andiamo dall'altro lato! Gli hai rovinato il tiro da tre punti! Ho capito? Ma sono sempre io quella che sta sul cazzo agli altri! Ho capito! Sempre io rovino le... Oh! Un telefono chiuso! Incredibile! Incredibile! Il primo telefono chiuso che vedo in tutto Outlast! Ok! E... Ne abbiamo un altro! E non sono sicuro che sarei in grado di bollare semplicemente come disordine da stressa da vicinanza! Una guardia di sicurezza dell'amministrazione è l'ultimo impiegato che ha iniziato a vedere le favole di... Madonna mia! Allora... Io devo cercare le cose però... Ciao Samara! Ciao Nouse! Outlast ho giocato una volta e poi mai più! Pensa che ci sono persone malate di Outlast! Che se lo giocano e se lo rigiocano tutti i giorni di continuo! Tipo Gladwest! Grazie per i follow su Twitch ragazzi! Benvenuti a tutti! E grazie anche dei... E grazie anche dei follow su TikTok! Thank you! Sono tra quelle persone che lo gioco più... Hai visto? Quindi quello vuol dire avere problemi celebrali ragazzi! Avere problemi gravi! Molto gravi! Avere problemi molto gravi e non... Non curabili! Corri Forest! Ma... Lui stava correndo per quale motivo? Perché c'era qualcosa che lo inseguiva! Quindi ho questa cosa poi insegui pure me! Ciao Fulmine! Avete tanti problemi... Non fidarti! Non puoi nasconderti! Ti dicono che è scienza ma non è vero! Ci aspettavano proprio qui! Willy l'ha capito! Sono sempre stati qui! Tu mi sembri uno di quei saggi... Intelligenti con la camicia di forza! Oh cazzo santo! Cazzo... No 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 no! Grazie Jenny! No 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 no! No no no! Che cazzo è? Si può rivedere la live su YouTube? La ricaricherò! Ciao Scoped! Ciao Sofia! Ciao Bloaderina! Oh che cazzo è? Oh che cazzo? No 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 ragazzi mi sto cacando addosso! No 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 no! Chiudi questa porta, ti prego Mi sta venendo l'ansia Please Please close the door A parte che è tutto scuro Non si vede niente Stiamo nel buio più totale L'unico colore che ormai riesco a distinguere è il nero Nero intenso, grigio chiaro, grigio medio, grigio scuro Il gioco è basso Si è resettato il GoXLR ragazzi Mi dispiace Giusto, giusto Si era resettato il gioco E quindi mi si è resettato anche l'audio Che avevo preimpostato su Sul GoXLR Ho trovato la radio Quindi il gioco è finito Grazie Ethan Oh che cazzo Tua madre Quanto sei arrabbiato però Ma che cazzo ti ho fatto Non potevi solo Non sei riuscito a tenere chiusa la tua boccaccia Non sei riuscito a cooperare Ma hai finito di chiacchierare ora Aia cazzo Ciao Jenny Park fammi un favore e mori qui Ma vai a fare in culo Ma vaffanculo Manca a far così però È agitatissimo Ma scusa Ma scusa Che cazzo è entrato Qua dentro Ah Sunnore No 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 Aspetta Aspetta E direci di Outlast E direci di Outlast Che cazzo è? È porcellino, è porcellino, raga È porcellino? È porcellino È porcellino È porcellino È porcellino È porcellino Fottiti, pezzo di merda Fottiti, pezzo di merda Chi è che ha fatto la sub in questo momento così delicato? Chi è? Chi è? Chi è? Jenny, thank you Beh, direi... Succhiami le palle, porcellino È porcellino È porcellino È porcellino È porcellino Bentornatissima Dillo che in fondo gli vuoi bene a porcellino Ma per me porcellino può andare a fare in gulo Do not Oh Oh Orco puttano C'è un buco Oh E mi sa che devo cadere nel buco Oh Oh Ma che cazzo Quanti fuck ci sono in questo gioco Troppi fuck No Basta Troppi fuck Jack Comunque mi fai prendere più infarti tu che il gioco E lo so Jack Sì me la ricordo quella scritta Basta star male Basta star male Basta incubi Poverini giustamente non ce la fanno più Mamma mia Deve essere brutto comunque Hai ragione Hai ragione Avete ragione raghi Avete ragione No fuck you Io non c'entro niente Fuck you Fuck you Exit Non è neanche umano Oh ma che cazzo fai Ma perché mi chiude fuori E' scemo questo Mi ha chiuso fuori questo qua Che gioco è? Il DLC di Outlast raghi Nel senso Si intuisce E scarica la telecamera Si ma ce ne ho altre tre Da utilizzare in casa Che cazzo Prima di entrare Oddio Devo caricaricare Exit Ma poi non è veramente l'uscita No No in questo gioco L'exit non è mai l'uscita In realtà è l'entrata E quello è il problema Ok Un'altra batteria Quindi ne consumo una Ne ho presa una Va benissimo Di qua Ai 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 Le scale sono completamente chiuse Quindi non si può salire le scale Né scendere Che c'è? Oh Porco cazzo Porco cazzo Porco cazzo Porco cazzo Ma perché mi levi le cose cazzo? Ma mi segue? Porco cazzo Ciao Pasqui Porcellino Ma porcellino Ancora non ho capito Che cazzo devo fare Io con porcellino Raggiungi l'amministrazione Per uscire Permettendo che non ho idea Di dove cazzo siamo E permettendo che non ho idea Di dove andare Seguirò la luce Che mi porterà Alla vittoria No E' chiusa la porta Niente luce Non si stia Buonanotte Idan Sera di nuovo Ciao Ila Io devo andare Forse dietro dopo Ciao Giocolatia Non so se mi ritrovi dopo C'è ancora un'altra retta di live Ma Non so Se il gioco finisce Poi noi stacchiamo Di solito Meno male che sa fare parkour Il tizio Si Si apre Si apre Dai Forzicchialo un pochettino Vabbè vai a cagare la prugna secca Pure tu Oh Aspetta Aspetta Io so dove siamo Io so dove siamo Però Mi state facendo venire l'ansia Io sto ancora cenando Ma come c'hai a quest'ora Te Come fate a cenare a quest'ora Non è tardino Sono le dieci Comunque devo aprire la porta Mi sa Quindi devo andare dove ci sono Quei tizi che sbattevano le mani Esatto Siamo entrati qui nel gioco principale La prima volta Tre Due Uno Jumpscare Strano Sto match Strano No Le ho sentiti Dizzi che sbattevano le mani Ok Questa si apre Ma non si vede niente Ok 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 È molto lugubre Questo Outlast Rispetto già all'altro Comunque Perché nell'altro Ero in un posto Più o meno Che sembrava Una Cioè era questo stesso posto Però era Molto più eliminato Molto meno lugubre Facile 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 la seconda cena Esatto Carol Porterai pure il 2 Se finiamo questo mese con 1200 sub Sì raga Cioè se è una cosa voluta Lo porto Eh io mi sono affilata la cena Che cazzo è stato Che cazzo è stato quello Ma siamo in un cimitero Aiutatemi qualcuno Ho bisogno di aiuto Dove sei Ti aiuto io Dov'è Ma non c'è Ma l'ho sentito Che veniva da qua Il suono della sua voce Ciao Sara No Ciri Anche perché se spammi È un po' inutile Qual è il gioco Che ti ha fatto spaventare di più Eh Il gioco Che mi ha fatto più paura In assoluto È stato Until Dawn Until Dawn Il gioco Che mi ha fatto Paura Da morire Mi sono cagata davvero tanto Con Until Dawn Mi sa che prendo la corrente Quindi non posso toccare Il cancello Emily no Vabbè Emily non lo sono Proprio riuscito a giocare Matti Che è ben diverso Sì ma se tocco Sto cancello Prendo Mi prende un infarto Praticamente Prendo il cancellino Mi viene un infarto Sicuro Oh Attenzione Una stanza Non del tutto obsoleta Con delle luci Che cazzo è Potresti dare una seconda possibilità A Emily È uno jump È un jumpscare Troppo potente Per me Samuel Grazie mille GVC Rec Ecco per il follo Almeno è più luminoso Di quello di prima No no ragazzi Fa È troppo Jumpscare Non è che si può servire Della carta Ma so magari Per non sporcare Che ne so Per non sporcare Ma è venuto Eh no Cioè non era quello che mi interessava Effettivamente Poi alla fine Sì ma basta Non fare questi versi Cazzo Che E Basta Ciao Flexi Ciao Vanessa Dai raga Non posso tenere l'audio È troppo forte Dai Dai c'è il seghino Ti sta seghinando Io non mi sembra il caso Di ascoltarlo Mentre fa Le sue cose Zozze Io vado Fai felice Paperino Vabbè Io vado È stato un piacere Conoscerla Comunque Spero che lei Raggiunga I suoi obiettivi Spero Che raggiunga I suoi obiettivi Poi non lo so Comunque Ho staccato l'elettricità Quindi adesso Dovrei poter entrare Ma un'amica Ma sì È Outlast Raga Ma ha salvato Qual Ma non ho staccato L'elettricità Ahia Santo cazzo E allora Che cosa Ho attivato Scusate Era lui Seghino E penso di sì Penso di sì Piacere anche per lui Penso che sia stato Piacere anche per lui Buasmi Thank you Grazie mille Per i sette mesotti Bu Grazie mille Siamo a sette Siamo a sette Grazie sempre per la compagnia Di zero Vanessa ti ho già salutato Ho detto ciao Vanessa Grazie mille Grazie mille Buasmi Thank you so much Per la sub E ben tornato Nella community De comp Beh ben tornato Sì vabbè Buonanotte Ciao e grazie Ella E grazie a tua sorella Quella donna Poco felice Allora Era a tempo Eh sì Era a tempo La roba Dobbiamo tornare Da Seghino Dobbiamo tornare Da Seghino È morto Seghino No Ciao Gib Grazie Ciao Ninja È morto Seghino È venuto Gli è esplosa La testa No Non è una roba A tempo Però Seghino È venuto Cazzo 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 Run Maddaf Run Seghino È morto We can't do anything Without Seghino Oh Chiudo Ok Diciamo che La scena Di Seghino Non Mi dispiace Seghino È resuscitato No Penso che Seghino Non sia resuscitato Perché Seghino Era vestito Da poliziotto Raga Seghino Era vestito Da poliziotto Quindi non penso Fosse lui Ciao Mariga Maronna mia Eh ma il gioco Non è proprio Tranquillissimo Etg No Qua si esce Maria non si vede nulla Andiamo dall'altra parte Buonasera Illo Buonasera Amelia Ciao Esisa Batteria 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 che schifo Sicuramente Non mi fa No Allora bisogna Uscire di là Ok Allora bisogna Questa era solo Per prendere una batteria In più Bisogna uscire da là Ok L'importante È scrutare Qualsiasi angolo Del gioco Salve Salve Sa che devo Scendere Nonna Oh Cristo Cristo, 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 Cristo Ti prego Ti prego Ti prego Up the stairs Ok Vediamo se lì c'è una batteria per la mia No Buonanotte Kraldolos Ciao Avery Andate a letto Buonanotte Buonanotte a chi va a letto ragazzi Grazie mille per la compagnia fino ad adesso Mi dispiace se il gioco non era proprio facile Tua sorella Cazzo Cazzo Piavano cadaveri Piavano Piavano bastardi più che altro Ma è seghino? Non penso Non penso più Seguino è morto là dentro raghi Ok devo saltare 3, 2, 1 3, 2, 1 E l'opite Ho dato già la buonanotte Anto Ma poi ho i piedi scalzi Appunto Eh infatti Gab è morto là dentro Seguino Quindi non era possibile Ci fosse ancora Però Devo dire la scena di Seguino Carina dai Non me l'aspettavo Mi ha fatto ridere Mi ha fatto ridere più del dovuto Non so perché ma un tizio che si sega così da nulla mi ha fatto ridere Niente E l'opite Maria beddamage Ciao Gabriele Ciao San Gennaro Dai vabbè Ma perché Cristo Ciao Spagnolita Dai Da quanto sei live? Dalle 17 di oggi pomeriggio Fabiola Ma sì Almeno già da Sarà arrivato Che ne so La prima volta che l'ho visto L'ho portato Fabi J Io non Non ho mai guardato Giochi horror O ero giocati da qualcuno Ernie Thank you Sono 12 mesi Grazie Ernie Molto Oh dobbiamo mettere la canzone 12 mesi Fatti crescere qualche pelo sul pisellino Ernie Perché c'era scritto Fatti crescere i peli sul cazzo di pisellino? Ernie Grazie mille Bentonato nella community dei comp Grazie mille per l'anno I sub A posto Non potevo gridare Arrivo raga Arrivo Metto a caricare il telefono Che esca Ok Scusate Ci siamo 347 Vesciche Infezioni Che stanno Esatto No Ho lasciato per tutto questo tempo La telecamera Qualcosa Ho sprecato la batteria 2 Non ci ho fatto caso Mannaggetta Mannaggetta Speriamo di trovare una batteria adesso Qua da qualche parte Allora Che brutti giochi Che giochi babba Eh L'hanno riscattato Ernie Abbiamo fatto mille e passa sub E hanno riscattato questo gioco qua Che ti devo dire L'ha voluto la chat Questo gioco Non io Non io È la chat che ha votato E ha regalato sub Fira ad arrivare al mille e due Barra bille e cinque Per per sbloccare sto robo Io non c'entro nulla Se avessimo un visitatore Se lo avessi Potrebbe essere la nostra esca Che diavolo stai parlando Gli piace solo sentire il suono della sua voce Abbiamo bisogno di un'esca Ha ragione Un'esca che si ricarichi Della nostra colpa Del nostro sesso Un piccolo pezzo di carro Tra noi e la lama L'idea è quella Non voglio attirare l'attenzione di Glaskin Ci farà del male Farà del male a te Saresti davvero una donna carina Non c'è bisogno Non c'è ragione di tirare la coda Al cane Gli diamo In pasto l'esca E lo lasciamo in pace Ah questi due me la vogliono mettere nel culo a me Io sarei la loro esca sicuro Ragazzi Sto per morire Tra tre Due Uno Continuo ad aspettare FNAF Non credo che arriveremo mai a 2000 sub Potete dimenticarvelo penso Credo che potete dimenticarvelo Ciao Martina Abbi fede Un regalo per lo sposo Oh cazzo di Eva Santo pisello No che cosa stiamo Che cosa Che cosa Che cosa Jumpscare fra tre Due Uno Lo so me lo sento Dai questo è jumpscare Me lo sento Me lo sento Ci sono cose che mi sento Abbi me Vabbè te ti ho Jumpscare Ecco Cazzo 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 Mai dire mai Cazzo Non mi toccare 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 Non fare questi suoni strani Che non ne vedo il motivo Salve Oddio Sato Porco L'uomo di sotto No stai calmo Stai Stai calmo Devi stare calmo Perché se tu stai calmo Io sto calmo E poi chi cazzo è L'uomo di sotto Oddio No raga Mi sto cagando Addosso Chi cazzo è stato Poi soprattutto Jumpscare Sicuro Peppe Uomo di sotto Sarà qualcuno di sotto Ciao pistacchio Buonasera Salve Oddio 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 Ti prego Ti prego Non ti scaricare Adesso Figlia di troia L'uomo di sotto È molto pericoloso Beh come sempre Direi L'uomo di sotto È sempre Un uomo pericoloso Guarda a casa C'è una perdita Che ci piscia sopra L'acqua distrugge tutto Stai calmo Tu senti cose L'acqua e il tempo possono scavare un buco in qualsiasi cosa Ok Col cazzo che sento le cose Potreste essere tutti un culo di cuccioli di opossum Piccoli, rosa, sordi e ciechi Andate a succhiare dalla tetta di mamma opossum Ma stai calmissima Tu e la tetta di tua madre Ma io non li vedo sti due che parlano Non tenere sempre la videocamera Eh ma non si vede una sega, che devo fare? Non vedo nulla Eh non vedo veramente dove metto i piedi Beh non so cosa fare Ma perché l'opossum Eh boh Perché gli opossum fanno queste cose forse Ok C'è un problema di meccanica Mi sono persa Ti prego Mi sono persa Ecco Tua madre No 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 Non mi toccare Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Che devo fare sto qua io? C'è una scala, devo scendere? Credo di dover scendere Ecco la sposa Succhiami le palle Tu e la sposa pure Ti diamo la carne No 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 Io non voglio niente Grazie mille a tutti È stato un piacerissimo Nessuno ha visto niente Nessuno ha visto niente Nessuno ha visto niente Nessuno ha visto niente Continuo a ripetere che Nessuno ha visto assolutamente niente Non era una donna Completamente sbaccata Sbaccata E incinta Penso che dovesse Partorire Morta Va bene? Non era Non era Non era Non era Non era Non era Non mi preoccupate No non c'è da senso stare Ci sono rotte le acque Sì sì Direi di sì E a noi va bene Così Nel senso Ce la teniamo Per quello che è Una donna A cui le si sono rotte Le acque Non si vede Una ben amatissima C'ho All'house Ancora qua eh E dove cazzo devo andare? No non posso Vincenzo Mi dispiace Non ti posso salutare Mi dispiace Peccato Perché nel senso Volevo salutarti Però Non correre E ho capito E dove Minchia vado Mi puoi correre Esatto Invece di correre Puoi fare altro No No Una batteria? No Magari un signore Magari un signore Proprio Ciao Angel Sky Tua sorella 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 Mi sono cagata In mano Siamo già visti prima vero Mi ricordo il tuo viso No io non mi ricordo proprio Porca ragazzi mi sono spaventata Forse prima che mi svegliamo Ma io non so che cosa devo fare Ah mi sta venendo a prendere Lascia che ti riempia Ma io non voglio essere riempita No io non voglio essere riempita Sono già piena Sono piena Grazie per il pensiero però Non lo so ma è horror No è un gioco comico Se ti vuole spostare Sì ma che cazzo devo fare Battle Royale Ho visto solo Eh? Potete cancellare il messaggio di Rock Per favore grazie Sta cagando di più con quel fibro la sera No ma questo è molto più spaventoso Ciao Asa Ciao Asa Io non ho capito dove devo andare Io non ho Io non ho capito dove devo andare Sto finendo tutte le batterie Ah io so che è qua Maria E di nuovo scappa E buttala in cacciara potrei E là zatto cazzo Eh raga però non capisco una cosa Non mi veda Sì però lui va dove devo andare io No ti prego No ti prego No ti prego Dai ti prego Dai ti prego Vaffanculo Dai Non so che cazzo devo fare Ai 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 aia tua sorella Eh bravo Altrimenti lascia che ti riempia E mi ha riempito come un tacchino Sono stata riempita come un tacchino Grazie saggio Mi ha farcito come un tacchino Ma non ho capito Allora dobbiamo far rifare la scena Ci siamo già vissi prima Io non so Ma io non so più che altro Pestata in faccia pure Sì Ma io non ho ragazzi Più che altro in questo gioco Non capisco tantissime volte dove devo andare Perché è un po' complicatino In realtà Capire dove cazzo devo andare Welcome home Welcome home Welcome home Cazzo c'è un vestito alla sposa Oh mio dio santo Ma non capisco Buonanotte Angelo Mi ha chiuso la porta Mi ha chiuso la porta Lui Ciao Celestiale Maria questo mi viene a prendere Sicuro Eccolo 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 Io lo sento cantare troppo forte Ma è qui Ciao Knife Perché io lo sento cantare fortissimo Sto seguendo il sangue Sto seguendo il sangue Io sto seguendo il sangue Eh il sangue mi porta qua Quindi è giusto Cazzo Oddio odio 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 Ti prego No Eh mo Eh mo È di qua Aia vaffanculo puttana Aia Ti prego no Aia Aia Sì Sì Cazzo 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 Dimmi che stai Sì Perché faresti una cosa del genere a te stessa Scappare Ma poi te stessa Sono un uomo Preferiresti morire che stare con me Sì Decisamente sì Allora muori Ecco lo sapevo Ecco lo sapevo Oh Cazzo E niente No Dovevo passare di qua Oddio che schifo Oddio che schifo Oddio odio 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 Mi prego Eeeh Nasconditi Dove Dove Non l'ho visto il dove Sono spaventata ragazzi Scusate Ciao Ila Ma l'armadietto Non si apre l'armadietto Ci ho provato Anche io sono morta No ma non Non ho capito Non ho capito qual'armadietto Perché sono tutti chiusi Questo No questo Ah tu dici questo Ciao Zaddino Ciao Marco Scusate Sono cacatissima Ciao Barts Aspetta Tiziano Mentre lui arriva Eeeh Ok Buonanotte Buonanotte Dizi Ok ce l'ho fatta Eeeh Ecco Eh ma adesso Abitiamo E non ho capito Lui non deve venire qua Ah devo farlo triggerare Non muoverti Come non muove Esci da lì Eh secondo me devo farlo arrabbiare Ciao chicca Ragazzi Non si è arrabbiato Vedete Eh E mo Ah tu dici che devo Aprire la porta Così lui viene Ah ok ok Ho capito Ho capito Ho capito Ok Ora è giusto Ora è giusto Scusate Vicino Riesco Il profumo Del mio amore Tesoro Non puoi nasconderti da me Si è diventata come un regalo Per me Una delicata Oddio Sento Ti prego Non mi guardare così Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Eccoci qua Ora ti sposa Questo mi scopa Ciao Chiara Questo mi scopa Altro che Grazie per la rosa Chiara Sono stato un po' Volgare Lo so E voglio dire Che mi dispiace Solo lo sai Come diventa un uomo Quando vuole conoscere Una donna No non lo so No non Non lo so Dimmelo tu Ma dopo la cerimonia Quando ti avrò Resso una donna onesta Prometto che sarò Un uomo diverso Oh cazzarola Sì Sì Dove stiamo andando Pronta a censurare Aspettate fermi Devo censurare il gioco Procura di la censura Allora aspetta E non ce l'ho Pronta ragazzi Mi sono ricordato adesso Cosa vuole fare Bue Si taglia il pene Allora Allora facciamo una cosa Allora Fermi Ok ok No non si può fare vedere No ok ok Non si può Allora Ho bisogno di una Sposta la cam Dove se lo taglia Di preciso Qua lo copro Qua lo copro Tiktok Non so come Tiktok Non so come censurarlo Però Allora ragazzi Tolgo un attimino L'acquisizione Dello schermo Vi lascio Senza nulla Un attimo Perché Non posso fare vedere Questa cosa Su tiktok Va bene ragazzi Datemi un secondo Su twitch posso fare vedere Queste cose Perché Twitch sa che è un gioco E nessuno è mai stato bannato Però tiktok Purtroppo non ha Non capisce la differenza Fra videogioco E E E E E realtà Ok Un attimo E vi riattivo La cosa Un attimo E vi riattivo Il gioco Io mi metto Su twitch Qua un attimo Per Io su twitch Lo posso fare vedere Su twitch È una cosa Che posso fare vedere Ragazzi Che voi sappiate Perché Se lo posso fare vedere Il gioco Poi lo riporto Sì Sì Ok Lo posso fare vedere Su twitch Ok Ragazzi Su twitch Lo posso fare vedere Quindi Datemi un secondo Ok Ok Se mi dite Che nessuno streamer È mai stato bannato Per sta roba Va bene Ok Ok Tanto in caso Twitch nel senso Sa fare la distinzione Tra Ditemi quanto piccola Mi devo fare Che non Mai Qui Ok Poi lo oscuri Su youtube Per youtube Taglio la scena Per youtube Taglio la scena Datemi un secondo Ciao Ragazzi Benvenuti a tutti Quelli che hanno scritto Scusatemi Vediamo la scena Essere il padre Che non ho mai avuto Non lascerò mai Che qualcosa Accada ai nostri figli Devi aspettare qui So che sei impaziente Come me Di consumare Il nostro amore Ma cerca di assaporarne L'anticipazione No ragazzi No ragazzi Questo ti aiuterà a rilassarti Leggo anche per i ragazzi di tiktok Come non guardare No io guardo No dai Fammi guardare 12 ore dopo No voglio guardare Oh cazzo Lo sta facendo Veramente Raccontate cosa succede C'è un tizio Sul tavolo Che sta per essere Squartato Tesoro Ho bisogno Che sanguini Di meno So che il gentil sesso Supporta le stesse ferite Con più sofferenza Ma devi davvero Fare uno sforzo Oh mio dio No L'amore per tutti Mi fa male il pisello Non ce l'ho Ma mi fa male il pisello Non ce l'ho Ma sento male Al pen È una cosa normale Ciao Chiara Mi fa male il pen Posso Tesoro Stai fermo Tutti questi Sgradevoli peli Liscia come la seta Che schifo Di nuovo Ora la parte Più delicata No dai Ti prego No 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 Sei scemo Sei brutto E rinunciato all'amore Non è vera la pena Neanche Ricuscirti Ma che cazzo di gioco è Buonasera Dark Allora Oddio questa Eh io tiro su perché Una pelle così sovra Io No no ragazzi No ragazzi No 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 Aspetta 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 No 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 Dark, nemmeno a me Non fa nulla qui, ok E non lo so, Bart Perché in realtà Questo gioco E il gioco è Outlast, ragazzi Datemi un secondo perché deve finire la scena I nome non l'hanno portato Sì, vabbè, però non lo so Mezzo censura Ma lui censura? Si puoi No, su TikTok e YouTube non lo faccio vedere Questo pezzo Vuoi, babba Lo sta castrando Sì, sì, l'ho capita questa cosa Mi sta venendo da vomitare Una donna deve soffrire alcune cose Non è piacevole, lo so Ma cerca solo di sopportarlo Per me e per i nostri figli Non ci vorrà molto Qualche taglio qui e qui Tagliare tutto quello che è volgare Un luogo soffice per il mio seme Per formare una famiglia Ovvio Mi vuole fare diventare donna Non ci credo L'incisione farà male Il concepimento o il parto Non è facile Non ci credo Mi fanno male No Ok mi sono rimesso il pantalone Lo posso fare vedere adesso su tiktok Giusto Tiktok vi riattivo la live Ok Ragazzi non si vede niente Lo so ho dovuto censurarlo Oh mio dio mi ha tagliato il pisello Mi ha tagliato il pisello Non ho batterie per la telecamera Ma che Oh porco puttano Non vedo nulla Ma il gioco vuole che attivo la telecamera Oddio 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 È il caso di dire Si è salvato per un pelo L'ultimo pelo Ti prego ti prego ti prego Non lo voglio il pisello tagliato Non lo voglio un'altra vagina Tutte voi puttane Con il vostro giudizio Eh non so dove andare onestamente Sono senza parole Lo so lei la pure io Senza parole Allora bisogna scappare da lui Devo prendere l'altra strada No si è tirato sui pantaloni No glielo ha tagliato L'ha lisciato Gli ha fatto tipo Scling Scling Perché non hai armi No In questo gioco non si hanno armi per uccidere È più liscio Ciao Giulia Palermitana Adesso sono molto liscia Eh cioè C'è il pisello depilato Questa è l'unica cosa che so Oh il pisello depilatino Pelo e contro pelo So che non sei come le altre O sei solo un'altra puttana Ma ci sarà tua sorella puttana Ma che cazzo Ma è fatta apposta Che lui mi veda Per caso Non so dove andare Raga No allora Devo spostare Il coso di legno Ok Ciao Saggio Buonanotte a chi va Ciao Zardock Devo spostare la L'asse di legno Sì però come è possibile Che mi ha visto Può essere che mi vede per forza Grazie online Grazie per la sub Grazie per il prime Grazie per la sub Ragazzi Benvenuto 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 Avresti potuto essere bella Io sono bella Però se se ne andasse da qua Sì Dark Sì Dark Dormo Dormo Ci provo a dormire In realtà Io sono molto cagasotto Tesoro puttana No vabbè Mi vedeva vedere Per forza Ma è fatta Allora è scriptato È una scena scriptata Allora niente Niente ci fa È una scena scriptata Mi sembrava strano Porco Volete tutti lasciarmi Così vuoi lasciarmi Bene vai Tu e il resto Di quelle puttana ingrate Ma ci sarà tua sorella Puttana ingrata Ma che cazzo vuol dire Ma stai calmo Immagino il dolore È caduto da Tipo il secondo piano Lo tizio mi sta spaccando Senti A me sta avvenendo Un infarto A cielo aperto Io ho finito tutto Grazie Por disbatteria Il tipo che ha salvato Suppongo sia morto Ah il tipo Sì Suppongo che sia morto Perché lui non era con me C'è qualcuno che sta arrivando Raga ma quanto dura Sto gioco Domanda e curiosità Trova la chiave Per accedere All'ala maschile Un'ora e trenta No Un'altra ora e trenta No Io sono vestito Sono vestito Perché lui Si è tirato sui pantaloni Mi sono tirato Sui pantaloni Quando Quando si è visto Si è sentito Che lui si tirava Sui pantaloni Un'ora e trenta Ma quanto è tre ore Ah ci sono altre tre ore Di gioco Aspetta Il DLC Dura tre ore In generale O sono io Che lo sto facendo Durare troppo Ma se lo fai Tutto tirato Ma raga Siamo qua da tre ore Ma che cazzo dite Come dire Ci durano Ma raga Ma sono qua Da tre ore Io Oh buonasera Per noi Mancherebbero tre ore Ma che cazzo dite Raga Ma è mai possibile Che sono così lenta Dai Non è vero Quindi siamo Alla fine del gioco Dipende come lo giochi tu E come cazzo L'ho giocato lento Oh buonasera Giago Eh mi sa che il gioco È finito Ciao Allo Mi devo ricordare Di Di editare La parte del video Per youtube Perché Gli leviamo Il pisello Ciao Maria Vieni da tiktok E benvenuta Anche tu Benvenuta Che cos'è questo What the fuck Una palestra Però tipo Campo Di Che cazzo è Un campo Ciao Palgur Devo farti i miei complimenti Perché Stai giocando Uno dietro l'altro Yor Diciamo che Sto Mi Diciamo mi sto Mi sto dando Tanto manforte Palgur Con i ragazzi in chat Perché io da sola Non riuscire a giocarlo Molto onessa Era solo un ragazzo Mia mamma Ripeteva Se ti sposerai Felice Sarai Da per tutto Ho cercato Ma nessuna Fanciulla Ho trovato Che potesse Assomigliare Alla donna Che voglio sposare Avrei trovato Solo zocco La che ti devo di Cazzo 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 Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Lasciami Ti prego Lasciami Ti prego Lasciami Ti prego Lasciami Ti prego Prendi la chiave e fuggi Oh, salve Tua sorella Non è vero È che sono lento Ciao Peppe Ma a letto su Twitter dura circa tre ore L'esponsione non un'ora e trenta Eh, a me mi aveva detto Franco che durava un'ora Che durava tre ore Allora, è giusto da qua? È giusto Però Non so da dove Come fai a dormire la notte? Raga So la distinzione fra un gioco E una roba reale Dai che palle Dura tre ore Se non ripeti le scene Io sto a ripeterle tutte Potrebbe essere questa Una trappola per lui No, il grande cazzo È giusto? È giusto Ciao Simone Non lo so No, forse no Sì? Perché io non mi ricordo Se era qua la porta Si salvataggio Quindi sì Se salva vuol dire di sì Sì Ok Quindi bisognava tornare Tutte indietro Per poi Andare ad aprire il cancello Ma non vedo niente Per di dove è la chiave? Aspetta Magari ho sbagliato Ah no L'exit Oddio Aia Tua sorella Porco Prova e riprova E tutte mi tradite Ma non sono una donna C'ho il pisello C'ho il pene Ma io c'ho il pene Ciao Jenna Oh che cazzo Ma Ciao gatto Oddio 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 Avremmo potuto essere così belli Ciao e grazie Brother Brother E a questo punto Niente pisellino Io me ne vado Io me ne vado Voglio il divorzio Io me ne vado Io me ne vado Dov'è l'uscita di questo gioco? È morto? Eh direi Voleva che io diventassi una donna Ce l'abbiamo fatta Siamo arrivati alla missione Alla maschile Ok Uscita all'entrata Esatto Ciao Catechino Buonasera Perché ci sono Abbataggi orribili? Ce l'abbiamo fatta? Ragazzi sono io Ragazzi sono io Non sono morto Oddio Stanno sparando alla gente What the fuck Ma stanno uccidendo la gente Sì Marco Tanto ormai il gioco è finito Quindi Stacco quando finisce il gioco Così Sei testimone Vabbè Direi di sì Cazzo Sì ma Ragazzi Non riesco a raggiungerli però Agenti a terra nel piano interrato Assalitore sconosciuto Necessitiamo di evacuazione E paramedici Ma qua da dove sono venuta? Cazzo di giro sto facendo Un giro di merda Cosa devo andare di qua? Eh grazie Chico Ciao Chico Allora non mi vedono Non mi vedono Inquietante Molto Ciao C'è la conottiera Hai solo fatto che Loro stiano uccidendo Randomicamente Non lo so Sopra c'è una botola Ah minchia Non l'ho vista Porca Eh ora dov'è la botola? E là Ah questa A me non mi pare Che ci possa salire Ragazzuoli No la botola Si capisce Quando si sale Questa Nemmeno la posso salire Perché è troppo Troppo Devo spostare Il letto No Beh sono soldati Ammazzano di base Si lo so Però così A random Cioè Ammazzeranno pure me Sicuro Randomicamente Perché ce va Tipica musica Da fine gioco Comunque Che anzi A sto gioco Come fai? Sto giocando Solo perché ci siete voi Che mi tenete compagnia Monica Onestamente Pichifus Più o meno Fosse per me Poi dove andate Prima dove c'era La finestra Magari Non ho visto Qualcosa Eh raga Sto provando Tutte Acqua Eh ma non mi sale Raga Raga non Non mi Deve salire qua No Eh ma Madison Me l'hanno consigliato Come gioco Però mi farà Cagare addosso Non so Scantolina Io tanto Ma io tantissimo Allora con Visace Facciamo silenzio stampa Visace sarà durissimo Penso di non poterlo giocare Da sola Visace Sai Prociola Perché ho visto Delle cose E forse da sola Non riesco a giocarlo Stavi andando bene La porta con la luce Eh però Questa è dove sono arrivata Quando sono arrivata Sono partita da qua Sì sono di Palermo Visace con Dara Allora io Posso chiedere A Dara Se mi vuole fare compagnia Se no mi lancio Dalla finestra Vedi che non è di qua È giù Ah Ah era giù Raga io che cazzo Ne sapevo Cazzo non sapevo Salvatore Oddio un locale normale Ah io questa stanza Ve la ricordo E dopo in cui tre Si guardavo nel film È quella del primo Però le cose sono chiuse Sei vicino all'uscita Sì Questa è la hall Signor Park Come cazzo fa Essere ancora vivo Mi aiuti Alzami per favore Ma perché non muore Lei e tutta la surrazia Oh ma che cazzo vuoi Aia No ti prego no No Uccidiamolo ti prego Uccidiamolo 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 Nessuno deve sapere Nessuno deve sapere Billy Billy Come non è Billy È Billy È Billy No gioia Grande Billy E io stacco alle 23 E mi sa che il gioco Mi finisce alle 23 Spaccate Fammi uscire Da questo posto di merda Ti prego Ti prego Oh santo cazzo Mi stavano per tagliare il pene Billy uno di noi Oddio Billy ci ha ucciso il personaggio principale Quindi non proprio Io me ne vado eh Ciao a tutti raga È stato un piacere Me ne vado Scappa cazzo Sto scappando Cazzo Vado Retromarcia Retromarcia Sfonde il cancello Sfonde il cancello Retro 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 Subito Retro 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 Frotte Retro Se per me quel tasto Non potrà tornare indietro Ci sono abbastanza prove In quel video Per ricoprire di merda I nostri amici Della Markov È uscito vivo Dal Mount Massive E abbiamo fatto di tutto Per coprire le sue tracce Ma i nostri nemici sono malvagi paranoici aziendali, con risorse che lei è troppo ingenuo per immaginare. Non sarebbe l'unico obiettivo tutti quelli a cui tiene, sua moglie, i suoi figli. Per la Murkoff non sono nient'altro che pezzi di... Ho bisogno che lei comprenda il limite oltrepassato. Danneggerà il riparamento della compagnia. Potrà perfino avere una certa forma di giustizia. Ma una volta che avrà cliccato quel tasto, la sua vita sarà finita. Tutte le persone a cui tiene saranno fottute. Ma è la cosa giusta da fare. Vale così tanto per le distruggere la Murkoff? Sì. Sì, l'ha così. Sì, premi quel cazzo di tasto. Premi quel cazzo di tasto. Sì. Oddio, adesso ci sto pensando un attimo. Oddio. Però mi ammazzano la famiglia, poi. Vabbè. Vabbè, mi ammazzano la famiglia, ma chi se ne frega. Vabbè. Ok. Oh, santo che abbia tanto peripillo. Penso tu non possa fare altro. Eh, lo penso anche io, Alex. Ok, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo finito. Outlast 1. Completato al massimo. Easy. Easy. Oddio, easy non proprio, perché mi ha fatto durare un gioco un pochettino tanto tempo. Easy non proprio, però ce l'abbiamo fatta. Siamo stati molto bravi. È finita. People alive. Vabbè, è finita. Non proprio.